Presso la direzione marittima, sede della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Catania, in collaborazione con le sezioni di Catania e di Acitrezza della Lega Navale Italiana e la locale associazione ambientalista e di volontariato Mare Camp, si è celebrata la giornata del mare e della cultura marinara, alla quale erano presenti le scuole della provincia catenese che hanno partecipato ai progetti di promozione e diffusione della cultura del mare e delle sue tradizioni. La Guardia Costiera, da sempre impegnata nell'obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Di qui la promozione di iniziative formative e divulgative per diffonderne la conoscenza al fianco della scuola che accompagna i giovani nella loro crescita, educandoli al rispetto esteso in questo caso anche a quello del bene mare attraverso attività e momenti di confronto organizzati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, sulla base di uno specifico protocollo d'intesa stipulato tra le parti al fine di rendere gli studenti cittadini attivi del mare, tutori per la conservazione del bene e i suoi diffusori per la cultura che esso implica.